Il Limone IGP parteciperà al G7 Agricoltura Expo Divinazione. La seconda etapa del Lemon Tour organizzata dal Consorso del Limone di Siracusa IGP si terrà durante l'Expo Divinazione a Siracusa dal 21 al 29 settembre in concomitanza con il G7 Agricoltura previsto per i giorni 26 e 27 settembre. Il Lemon Track sarà posizionato in uno dei luoghi più prestigiosi dell'evento all'interno del cortile antistante del Castello Maniace, simbolo della città di Siracusa. Qui i visitatori potranno scoprire i valori alla base del progetto Lemon Tour grazie anche ai materiali informativi distribuiti e al personale dedicato. Il percorso espositivo sarà incentrato su temi di cruciale importanza come la sostenibilità della produzione agricola e la lotta al cambiamento climatico attraverso pratiche virtuose come il miglioramento della fortidità del suolo, l'impiego delle energie rinnovabili, il risparmio idrico e la tutela degli insetti impollinatori. Durante l'evento il pubblico di turisti e professionisti del settore potrà approfondire il concetto di No-Wast, il limone di Siracusa IGP infatti grazie al suo disciplinare di produzione è un prodotto che può essere utilizzato interamente e incluso alla buccia. Questo approccio anti-spreco sarà il filo conduttore delle attività proposte da Lemon Truck dove sarà possibile degustare sorbetti, granite e limonate a base di limone di Siracusa IGP. Questa scelta non è casuale, l'evento rappresenta un'opportunità unica per volgere lo sguardo verso l'Europa e il futuro evidenziando il forte legame tra natura e tradizione che caratterizza il limone di Siracusa IGP. Grazie.